Front Page ha pubblicato un articolo che dice Riavvicinamento Iran-Arabia Saudita, vincitori e vinti. Ecco un estratto. Nel 2016 i sauditi avevano interrotto le relazioni diplomatiche con la Repubblica Islamica dell'Iran. La ripresa delle relazioni diplomatiche tra Riyadh e Tehran, probabilmente a lungo termine, non sarà una vittoria per l'Arabia Saudita, ma è un trionfo per l'Iran e per Pechino. Il riavvicinamento iraniano-saudita, mediato dal regime comunista cinese, è una chiara vittoria per il male e una grave sconfitta per Stati Uniti e Israele. Diamo il benvenuto a Daniel Greenfield, giornalista investigativo e collaboratore del David Horowitz Freedom Center, l'editore di Front Page. Daniel, parlaci di queste strane coppie. Che succede? Allora, noi abbiamo molti nemici che si stanno alleando. L'America sta diventando sempre più debole, mentre la Cina vuole diventare una potenza mondiale. Mira a prendere il nostro posto. Non ha fatto altre esercitazioni in Sudafrica, ma le ha fatte in tutto il mondo. Ora sta cercando di negoziare un accordo tra Russia e Ucraina. Ha già negoziato con successo l'accordo tra Iran e Arabia Saudita. Biden ha reso il ruolo dell'America insignificante sulla scena mondiale. E questo è il risultato. Daniel, pensavo, o almeno speravo, che l'Arabia Saudita avrebbe aderito agli accordi di Abramo. Pensavo che temesse l'Iran perché è pronto a realizzare la bomba atomica e quindi avevano bisogno di una specie di protezione dagli altri stati del Golfo e all'improvviso hanno deciso che è meglio unirsi a loro piuttosto che combattere, forse perché ritengono che l'amministrazione Biden non impedirà all'Iran di raggiungere il suo scopo. È esattamente così. Gli accordi di Abramo sono stati concepiti dall'amministrazione Trump quando gli Stati Uniti effettivamente agivano per fermare l'Iran. Ma l'amministrazione Biden ha fatto in modo di pagare i riscatti all'Iran attraverso la Corea del Sud. Ha negoziato, ha mostrato debolezza, e così i sauditi hanno deciso di lasciar perdere. È difficile biasimarli. Come puoi affidarti a uno che si mostra debole? Daniel, pensi che a lungo termine l'Arabia Saudita se ne pentirà? Sì, certamente. Ma questo fa parte della questione del ruolo che vogliono giocare nel nuovo ordine mondiale cinese. A partire dalla Seconda Guerra Mondiale abbiamo avuto un ordine mondiale americano. Ma ora la Cina aspira a questo ruolo. La Cina vuole solo l'energia, non un buon partner. A differenza degli Stati Uniti, arraffa tutto ma non restituisce nulla. Così i sauditi, visto che siamo così deboli, vogliono alzare la posta in gioco al tavolo dei negoziati. Non vogliono più fare la parte della lepre, ma del cacciatore. Il problema è che a Biden non interessa minimamente la sicurezza nazionale americana, per cui non ha un vero interesse a giocare questa partita. Che impatto avrà su Israele questa nuova love story tra Arabia Saudita e Iran? Ovviamente è una brutta notizia per Israele. Israele avrebbe sicuramente fatto qualcosa contro l'Iran con il sostegno o la non interferenza degli Stati Uniti. Ma con l'amministrazione Biden questo non è più garantito, perché è più dalla parte dell'Iran che da quella di Israele. E questo mette in discussione la premessa che Israele potrà occuparsi dell'Iran, perché sotto l'amministrazione Obama, gli Stati Uniti hanno interferito attivamente, spiato e fatto trapelare informazioni sui piani di attacco israeliani. Se anche l'amministrazione Biden farà la stessa cosa, sarà molto improbabile che Israele possa agire contro l'Iran. La Cina si sta muovendo ovunque, nel Mar Cinese Meridionale, in Africa e ora in Medio Oriente. Ha il più grande esercito del mondo. Sentiamo dire continuamente che la Cina ha l'economia più grande del mondo. Lo è veramente a livello lordo. Ma il livello pro capite è probabilmente a 5.000 dollari a persona, contro i 40-45.000 dollari degli americani. Quindi, su base pro capite, non è affatto la nazione più ricca. Ma dove trova la Cina tutti questi soldi per fare quello che sta facendo? L'economia cinese è la nostra economia. Noi abbiamo deciso di esternalizzare la nostra economia in Cina. Tutto ciò che vedete nei negozi è prodotto in Cina. L'amministrazione Biden sostiene di voler fare le cose secondo le regole americane, di conseguenza avremo una dipendenza ancora maggiore dalla Cina, perché è tutta basata sulla cosiddetta tecnologia verde, che è concentrata in Cina. Il piano della Cina era quello di diventare l'epicentro della nostra economia. E ci è riuscita, ma con il nostro consenso. Il presidente Trump aveva annunciato una inversione di rotta per uscire da questa situazione e aveva proposto misure significative per farlo. Ma Biden va nella direzione opposta. Senza di noi, l'economia cinese sarebbe una barzelletta, del tutto incapace. Ma con noi, la Cina è in grado di distruggerci. Sai cosa mi stupisce? La sinistra spinge per i veicoli elettrici, ma i componenti della batteria sono le cosiddette terre rare, come il cobalto, il nickel e il litio. Sono tutti prodotti in Cina o nel terzo mondo, in luoghi come il Congo, che è sotto il controllo della Cina. Però, le stesse persone di sinistra ora si oppongono all'estrazione di questi minerali in America, rendendoci ancora più dipendenti dal nostro nemico. E Biden definisce la Cina un concorrente. In campagna elettorale, Biden aveva promesso ai sindacati minerari che, se fosse stato eletto, questi minerali sarebbero stati estratti negli Stati Uniti. Ovviamente, non ha mantenuto la promessa. E ora dipendiamo dal monopolio cinese sui materiali delle terre rare. Negli Stati Uniti abbiamo risorse incredibili, proprio qui, nel nostro terreno. Ma non c'è permesso cercarle. Il risultato è che dipendiamo dalla Cina per i materiali delle terre rare. E per i materiali nucleari dipendiamo soprattutto dalla Russia. Quindi, dipendiamo dai nostri nemici. Così siamo diventati deboli e non possiamo fare nulla. E la Cina può farci quello che vuole. Non siamo in grado di rispondere. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo bisogno di un'amministrazione, America First, che sfrutti davvero le nostre risorse naturali. L'America è diventata una superpotenza perché abbiamo usato la nostra gente e le nostre risorse. Poi, negli anni 80 e 90, abbiamo deciso di andare nella direzione opposta. Esternalizzando i posti di lavoro, le miniere, tutto in altri paesi, pensando che in qualche modo saremmo diventati ancora più ricchi, e che tutti potessero fare gli informatici. Una cosa del tutto dissennata. E ora, gli informatici vengono spazzati via dall'intelligenza artificiale. Dobbiamo quindi riportare i posti di lavoro nel settore manifatturiero, e dobbiamo riportare qui il settore manifatturiero. I democratici ripetono che dobbiamo imparare dalla Cina. Esatto. Riprendiamoci la produzione industriale e i posti di lavoro. E magari smettiamo di vendere terreni agricoli alla Cina, soprattutto quelli vicini alle basi militari. Assolutamente sì. Abbiamo venduto troppo alla Cina. E con il salvataggio della SVB, stiamo salvando le aziende cinesi che hanno investito negli Stati Uniti. Daniel Greenfield, del David Horowitz Freedom Center. Grazie per essere venuto. Grazie a te. Questo era Larry Elder Show per Epoch Times. Ricordate, abbiamo un paese da salvare. Arrivederci alla prossima volta. Grazie a tutti.